Sulle tavole troppo cibo spacciato per Made in Italy. Dai salumi alle conserve, dal vino ai formaggi, ma anche extravergine, sughi o pasta. Il falso Made in Italy colpisce in misura diversa quasi tutti i prodotti alimentari. È necessario accelerare il percorso del disegno di legge, che reca le nuove norme in materia di reati alimentari. A richiederlo il direttore di Coldiretti Puglia, Angelo Corsetti, nel corso dell'audizione della Commissione parlamentare d'inchiesta sui fenomeni della contraffazione della pirateria in campo commerciale, che si è svolta presso la Prefettura di Foggia. Dal quinto rapporto sulle agromafie emerge come la provincia di Bari rientri a pieno titolo nella graduatoria che fotografa l'intensità del fenomeno agromafie nelle province italiane, piazzandosi al decimo posto. Seguita a ruota da Taranto al quindicesimo posto, la provincia di Barletta-Andreatrani al diciottesimo, Lecce al ventottesimo posto, Brindisi e Foggia rispettivamente al quarantaseesimo e al quarantasettesimo posto. I ruoli si invertono se ad essere fotografato l'indice di permeabilità delle agromafie che raggiunge 100 a Foggia, 66,80 a Brindisi, 44,75 nella Bat, 34,56 a Taranto, 30,75 a Bari e infine 25,94 a Lecce. A Bari le fattispecie criminose più significative sono costituite dalla sofisticazione soprattutto dell'ortofrutta e dell'olio. L'agropirateria, spiega la Coldiretti, è una pratica criminale che si sviluppa attraverso le importazioni, la manipolazione e la trasformazione di prodotti agricoli di dubbia qualità e provenienza che giungono nel nostro paese e che diventano made in Italy, freggiandosi in modo fraudolento dell'immagine che accompagna nel mondo le produzioni locali. Si stima che siano coltivati o allevati all'estero oltre il 30% dei prodotti agroalimentari acquistati dai consumatori, con un deciso aumento negli ultimi decenni delle importazioni da paesi extracomunitari dove non valgono gli stessi diritti sociali dell'Unione Europea e dove esiste un caporallato invisibile che passa inosservato solo perché avviene in paesi lontani. Grazie. Grazie. Grazie.